e buongiorno amici di Bet Italia World, buon martedì, siamo sempre in vostra compagnia per parlare di scommesse sportive, per darvi le nostre pick selezionate, le migliori e per vedere un po' cosa ci attende oggi, iniziamo col dire che ieri siamo andati un po' in calo 1-3 purtroppo nelle nostre free pick, abbiamo sbagliato le 2 sull'Hockey KHL questa volta abbiamo chiuso un po' in calo il mese di settembre che però è stato veramente ottimo, poi ne parleremo, abbiamo ovviamente sbagliato il gol no tra Parma e Torino, il Parma ha vinto 3-2 e dopo pochi minuti il gol no era già andato a farsi benedire, abbiamo invece preso over 4,5 cartellini nel Monday Night, il big match tra Manchester United ed Arsenal, ne abbiamo visti 6 di cartellini quindi una bella quota a 2 almeno questa entrata, oggi vedremo lo studio di D'Artagnan sulla Champions League, vi daremo 7 indicazioni di scommesse anche se non sono pick ufficiali, le free pick ufficiali selezionate dai nostri tips e della redazione di betitaliaweb.it sono 4 anche oggi, 2 giocate sul calcio di striker nella notte del calcio sudamericano e 2 giocate di OKKHL con il nostro Insider, ma andiamo come sempre con ordine, vediamo il programma della giornata di oggi, Champions League ovviamente, voglio però partire dalla AFC Champions League, la Champions Asiatica, è arrivata alle semifinali, si giocherà a Doha con la squadra di casa dell'Al Sad che spera di proseguire la striscia vincente, 5 vittorie su 5 tra le Muramiche in questa competizione, mentre i sauditi dell'Al Ilal dove gioca il nostro Sebastian Giovinco non hanno mai vinto in trasferta nella seconda fase della FC Champions League, oggi sono ovviamente sfavoriti a 3,45 mentre i padroni di caccia si giocano a 1,92. Passiamo però alla Champions League, quella vera, quella che ci interessa maggiormente, quella europea, oggi 8 match in programma per la seconda giornata della fase Gironi, si inizia alle 18.55 con Atalanta, Shakhtar e Real Madrid, Club Bruges, Atalanta all'esordio in casa, diciamo in casa perché non gioca Bergamo, dopo un debutto scioccante a Zagabria dove hanno preso 4 gol, la banda di Gasperini deve assolutamente riprendersi, nella serata invece ci sarà anche Juventus, Bayern Leverkusen a Torino, sul sito betitaliaweb.it trovate come sempre l'articolo con probabili informazioni, statistiche e consigli per le scommesse. Grande calcio anche in Sud America perché c'è la Libertadores tra questa notte e domani notte si giocano le semifinali, questa notte c'è l'attesissimo derby argentino River Boca Juniors, mentre domani notte ci sarà il derby brasiliano tra Gremio e Flamengo e da qui scopriremo chi si giocherà la finalissima del più importante trofeo del calcio sudamericano. Cambiamo sport, andiamo alla pallavolo World Cup maschile, Giappone-Italia alle ore 12.20, quindi tra poco c'è l'esordio degli azzurri contro i padroni di casa nipponici, l'Italvolley giovanissima di Chico Blengini che ha lasciato fuori Zeidze, Guantorena, Giannelli e pure Lanza infortunato, quindi sarà un'occasione questo mondiale per puntare molto sui giovani azzurri. Nonostante tutte queste assenze, nonostante il fatto che il Giappone giochi in casa, gli azzurri oggi sono favoriti a 1.45, ma vi ricordo che il vero test interessante è domani col big match contro gli Stati Uniti. Parliamo anche di atletica leggeri, mondiali che sono arrivati alla quinta giornata a Doha, oggi scende in pista il nostro Gianmarco Tamberi impegnato assieme a Stefano Sottile nelle qualificazioni per il salto in up. In serata ci saranno invece le finali di salto con l'asta maschile alle 19.05, in campo anche il nostro Claudio Stecchi, ci sarà poi alle 20.20 il giavellotto femminile, la finale degli 800 metri maschili alle 21.10 e infine alle 21.40 i 200 metri maschili dove lo statunitense Noam Lyles è strafavorito dopo l'impressionante 19.50 corso a Lausanna lo scorso 5 luglio. Passiamo al basket perché oggi c'è anche la prima giornata della fase a gironi della diciottesima edizione di Euro Cup con Valencia detentore del titolo, 24 squadre in gara, 4 italiani in tutto, oggi debutteranno entrambi in casa a Trento Galatasaray alle 19.30 e Venezia Partisan alle 20, domani toccherà invece alla Virtus Bologna e a Brescia scendere in campo. Ovviamente sui canali il presidente basket, il nostro Frariz è già nel pieno del lavoro con le sue analisi, i suoi spunti per le scommesse, vi consiglio di entrare subito nel gruppo gratuito e magari di fare un passo ulteriore e di entrare anche nel gruppo VIP con un piccolissimo abbonamento che supporta la nostra redazione e il nostro lavoro quotidiano. Chiudiamo con lo che i KHL, ieri abbiamo detto 0,2 nelle nostre scommesse ma il mese di settembre si chiude davvero alla grande, abbiamo dato 30 pic, ne abbiamo prese 22 sbagliandone 8 per un più 28,44 unità di profitto su 71 investite, sono tanti i numeri, non voglio farvi girare la testa, vi basti pensare che parliamo di un ROI del 40,05% di profitto, un ritorno di investimento superiore al 40%. Oggi si giocano altre 4 partite, si inizia alle ore 16, alle ore 18.30 da non perdere la sfida di Mosca tra Sparta che è il CSKA. Passiamo alle free pick, come anticipato, come promesso e come al solito studio di Champions League del nostro D'Artagnan, queste non sono giocate ufficiali, sono idee e consigli che vi diamo su queste partite. Iniziamo da Galatasaray PSG, il consiglio di D'Artagnan è Galatasaray, gol no a 2-10, il Galatasaray è rimasto a secco in 5 delle ultime 6 partite di Champions e contro il PSG potrebbe faticare a segnare. Secondo consiglio che vi diamo è Real Club Rouge, qui azzardiamo forte perché azzardiamo addirittura un under 2,5 a 3. Il Club Rouge ha fatto 6 clean sheet nelle ultime 8 di Champions, il Bernabeu non prendere gol non sarà facile ma comunque la quota a 3 sull'under 2,5 è interessante. Terzo consiglio del nostro D'Artagnan, Manchester City, Dinamo, Zagabria, qui invece i gol ne potremo vedere come perché il consiglio è City, over 3,5 gol a 2, il City ha segnato 17 gol nelle ultime 4 partite compreso il 3-0 alla prima di Champions League contro lo Shakhtar, la Dinamo ha dominato come abbiamo detto 4-0 contro l'Atalanta, la prima in casa però a Manchester contro il City sarà tutta un'altra storia. Passiamo all'Ocomotive Mosca Atletico Madrid, qui invece andiamo contro i trend e giochiamo over 2,5 a 2,25, la Locomotive vuole sorprendere ancora dopo aver battuto i tedeschi dell'Everkusen, l'Atletico ha pareggiato 2-2 in casa contro la Juve, quindi un over abbondante, potremmo vedere 3 gol oggi a Mosca almeno e secondo noi la quota 2,25 è interessante. Passiamo anche alle partite di domani, Barcellona-Inter, grande attesa per i nerazzurri però il nostro consiglio è Inter, gol no a 2,50, l'Inter pensate negli ultimi 15 anni ha giocato 5 volte al Camp Nou non ha mai segnato una rete a Barcellona, chissà se Lukaku e i compagni sfatteranno questo tabù, noi abbiamo consigliato il gol no dell'Inter, purtroppo perché io sono interista. Lilla-Celsi invece andiamo sulla vittoria del Chelsea 2,05, una quota interessante oltre alla pari, un'occasione per i Blues che hanno iniziato la stagione davvero arrancando, però Lilla non è un avversario di grandissimo livello e non ha mai segnato nelle ultime tre di Champions. Chiudiamo con un altro cipino, Lipsia-Lione X a 4,55, il Lione ha già pareggiato la prima contro lo Zenit, è una squadra che ha un grande rendimento, una grande percentuale di X in campo europeo, il Lipsia ha vinto la prima in casa del Benfica, è ovviamente favorita però ci potrebbe anche scappare un pareggino del Lione a 4,55, il nostro D'Artagnan vi consiglia un cipino sulla X. Ora andiamo alle quattro free pick, queste invece ufficiali selezionate da Striker Insider, iniziamo dal calcio con Striker e iniziamo nel big match della notte di cui vi avevo parlato, River Plate Boca Juniors, giochiamo River Plate, meno 0,25, Asian Handicap a 1,62, Stake 2, meno 0,25 Asian Handicap vuol dire che giochiamo sulla vittoria del River Plate ma avremo un mezzo rimborso in caso di pareggio, il Boca è in trasferta, ha qualche assenza importante e il River qui in casa non ha mai perso nelle ultime due contro il Boca, ci auguriamo che non lo faccia neanche questa notte. L'altra puntata, l'altro consiglio di Striker invece è nella Coppa Messicana e anche qui è un Asian Handicap andiamo a vedere, Puebla contro Monarcas, giochiamo sul Puebla, meno 0,25 Asian Handicap a 1,75, anche qui Stake 2. Abbiamo detto Coppa Messicana, anche qui andiamo sui padroni di casa con mezzo rimborso in caso di pareggio. Puebla squadra superiore che anche in Coppa potrebbe mettere sotto il Monarcas che pensa già al prossimo impegno di campionato tra qualche giorno. Chiudiamo con le ultime due free pick di Insider per quanto riguarda l'Hockey KHL, sono due giocate ma riguardano la stessa partita, Yekaterinburg contro Lokomotik Yaroslav, giochiamo over 4,5 a 1,80, Stake 2, over 4,5 considerando anche eventuali tempi supplementari o rigori. L'altra giocata invece è vittoria dello Yekaterinburg, nei tempi regolamentari a 1,85, Stake 2 anche in questo caso. La partita si gioca alle ore 16, il Yekaterinburg è terzo est ma deve riprendersi dopo 4 brutte sconfitte consecutive, lo Yaroslav invece è penultimo a ovest, è una sola vittoria nelle ultime 4 partite, è l'occasione giusta per il Yekaterinburg e potremmo vedere anche 5 gol totali almeno in questa sfida. Quindi ricapitolando, Yekaterinburg-Lokomotik Yaroslav giochiamo over 4,5 a 1,80, Stake 2 e giochiamo la vittoria dei padroni di casa nei tempi regolamentari a 1,85, Stake 2. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi do appuntamento oggi pomeriggio con Sportusa News & Tips, vi auguro una buona giornata, buone scommesse e come sempre puntate sempre con la testa. Ciao! Ciao!